In questo video andremo a vedere di cosa è ancora capace una scheda grafica uscita ben sette anni fa, la GTX 1070 Ti. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Ropazzo. Oggi siamo qui con una scheda video che fece la gioia di molti videogiocatori appassionati del mondo dell'hardware negli anni passati. E' ovviamente la 1070 Ti scheda video refresh dell'architettura Pascal uscita nel 2017, quindi diciamo con un anno e diversi mesi di ritardo rispetto alla line up principale, ovviamente composta da GTX 1060, 1070, 1080 che hanno, possiamo dire, scritto la storia nel campo dell'hardware informatico. Prima di proseguire col video vi invito anche a iscrivervi qua sotto al canale se ovviamente non l'avete già fatto, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui la domenica alle 2 di pomeriggio. Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro invece per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per quanto riguarda garanzia e assistenza sempre al massimo. Infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e TikTok dove sono presenti anche dei video short più lunghi rispetto a quelli di YouTube, quindi ecco se volete avere le versioni integrali dei contenuti brevi, ecco andate a seguirmi anche su questi canali. E tornando a parlare di questa 1070 Ti, come vi ho già detto, è uscita in ritardo di circa un anno e mezzo rispetto alla line up principale dell'NVIDIA Pascal che è uscita a maggio 2016. Questa infatti uscì a novembre del 2017 in un periodo abbastanza particolare perché iniziava ecco a esserci un primo crypto boom dove ecco già le schede video erano assalite e acquistate in massa da chi voleva fare mining e da chi voleva ecco guadagnarci. E in più ecco da tutti anche gli altri videogiocatori che invece volevano utilizzare questa scheda per giocare o per chi invece la voleva utilizzare per lavorare. Quindi ecco il prezzo MSRP di questa scheda era di 400 dollari, 400 euro che poi effettivamente al lancio secondo me era molto difficile trovarla a questa cifra e anche e soprattutto nei mesi successivi. Però di base si doveva posizionare come ci suggerisce il nome tra una GTX 1070 e una GTX 1080. E addentrandoci meglio nell'argomento specifiche tecniche questa 1070 Ti ha un core che è lo stesso praticamente della GTX 1080. Parliamo infatti sempre dello stesso chip il GP104 con però ecco qualche Q da core in meno rispetto alla 1080. Questa 1070 Ti infatti ha 2432 Q da core contro i 2560 della 1080 quindi parliamo di un decremento di circa il 5% quindi veramente pochissimo. E anche come frequenze la 1080 manteneva ecco delle frequenze un pochino più alte di circa 1700 e rotti MHz in boost. Questa invece era 1680 quindi veramente una differenza minimale anche dal punto di vista del core clock. Mentre per quanto riguarda la VRAM era un po' il tallone da kill non tanto per la capacità di VRAM che all'epoca 8GB di VRAM erano considerati un bel quantitativo di VRAM. Quanto più per le prestazioni di quest'ultima per il fatto che avevamo delle memorie GDDR5 non X quindi diverse dalle memorie presenti sulla 1080 che portavano un bandwidth di 256 GB al secondo contro i 320 circa della 1080. In pratica avevamo le stesse identiche memorie che ritrovavamo anche sulla GTX 1070 liscia che già anche in quel caso qualcuno considerava ecco un po' un fattore limitante. Quindi questa scheda poteva avere dei vantaggi come anche degli svantaggi da questo punto di vista in termini prestazionali. Cosa però che si può andare benissimo a ovviare e ovviamente in questo video dove andiamo a rivedere e riscoprire le prestazioni di questa scheda siamo andati a fare. Cioè l'overclock soprattutto per quanto riguarda le VRAM cosa che ci fa aumentare le prestazioni anche fino a un 10% buono con praticamente qualsiasi custom presente in commercio. Ovviamente se dissipata adeguatamente e magari anche con un cambio pasta termica visto che sono passati diversi anni. Per quanto riguarda invece il modello di customizzazione che andremo a vedere oggi si tratta della MSI Gaming. Non il modello X perché all'epoca Nvidia non permise a nessun partner di rilasciare delle versioni potremmo dire overclockate di fabbrica. Quindi ecco ci troviamo un dissipatore che è lo stesso della Gaming X ma non con una modifica dal punto di vista delle frequenze. Quindi questa scheda vedremo anche le prestazioni a stock gira con le frequenze ecco di base della 1070 Ti del modello reference in sostanza. Quindi sì la parte di overclock sia delle VRAM che del core viene lasciata poi all'utente finale e oggi ovviamente vi ripeto andremo a vedere anche questo aspetto e vedremo anche quanto guadagniamo in termini di prestazioni. Passando invece ai consumi e alle temperature relative ecco questa scheda in particolare questa custom non ha sicuramente problemi di temperature perché ecco il dissipatore fa più che il suo dovere e i consumi ecco sono normali ecco per una scheda del genere anzi che ormai ci sembrano pure bassi perché parliamo di 180 watt che effettivamente confrontate al giorno d'oggi se all'epoca questa era una scheda video di fascia alta effettivamente al giorno d'oggi 180 watt sono per una scheda video di fascia media, medio bassa quasi. Quindi ecco questo anche da tenere in considerazione poi per quando andremo a parlare ecco di alternative ovviamente nel mercato dell'usato rispetto a questa 1070 Ti perché secondo me ecco in qualche caso ancora può valere la pena. Prima di passare ai benchmark un accenno alla piattaforma di test che è composta da un Ryzen 7 3700X che vi dico subito non farà da bottleneck alle prestazioni di questa scheda poi 16GB di RAM DDR4 3200MHz ovviamente in dual channel, come scheda madre una X370 Asus e come alimentatore una VGA GQ 1000W 80 Plus Gold. Quindi ora direi di passare brevemente al tutorial di overclock e poi finalmente ai test e ai benchmark. Per overclockare questa 1070 Ti ci serviranno due software, even benchmark per il carico e MS Afterburner per impostare i parametri. Vediamo dalle impostazioni che siano spuntate le caselle su sblocca il monitoraggio del voltaggio, sblocca il voltaggio costante. Andiamo poi a maxare power limit e temperature limit, applichiamo e apriamo poi la curva del voltaggio. In questo caso poi dallo slider del core clock abbassiamo di circa 150-200MHz ma questo ci serve soltanto per rendere un pochino più fresca la scheda, un po' più stabile, ha le frequenze più basse e quindi ecco poi effettivamente l'overclock si fa quando andiamo a prendere il punto sulla curva che sta a 1V, 1000MV ecco e lo portiamo su fino a 2050MHz. In questo caso poi dopo aver applicato vedremo questa curva stabile cioè che la scheda con 1V sarà a 2050MHz. Tra l'altro ecco a stock la scheda stava tra 1V e 1,050V quindi in questo caso abbiamo fatto anche tra virgolette un mini undervolt ma comunque abbiamo anche aumentato le frequenze quindi si può considerare overclock. Poi andiamo ad aumentare ecco questo molto importante il memory clock di più 450MHz o più 500 se siete fortunati e questo farà veramente la differenza perché come vi ho già detto è la parte delle VRAM a essere limitata. E ora direi di passare ai benchmark. E partendo col primo gioco abbiamo control testato in full HD e settaggi di Digital Foundry. Qui vediamo un bel incremento di circa il 10% tra stock e overclock. 72fps contro 79,5 e anche un buon incremento nell'1% low. Stessa cosa in 1440p e stessi settaggi passiamo da 45fps nel risultato a stock fino a 51,6 per quanto riguarda il risultato del framerate medio in overclock. Quindi niente male. Su Alan Wake 2 1080p settaggi di Digital Foundry. Qui questo è un gioco che sfrutta il mesh shader che questa scheda non ha quindi ecco è un po' penalizzata. Però comunque sui 30fps riusciamo a starci a risoluzione nativa e con l'overclock anzi guadagniamo pure qualcosina. E passando con l'FSR Quality quindi un upscaling comunque non troppo forte abbiamo da 44fps che già è una buona soglia. Arriviamo a 48,1 con anche un buon incremento sull'1% low. Quindi anche qui ecco questo gioco diventa più che giocabile. Death Stranding 1080p settaggi maxati visto che è un gioco ormai che ha i suoi anni ed è un po' ottimizzato. 104fps a stock e overclock 110 quindi un incremento magari non entusiasmante come gli altri per quanto riguarda l'overclock. Però anche qui se poi magari passiamo al 1440 sempre con gli stessi settaggi passiamo da 75 a 80 che quindi anche qua insomma è un incremento non proprio da tralasciare secondo me. E passando ora a Fortnite settaggi medi capitolo 5 stagione 2 e in full hd ovviamente abbiamo un average a stock di 152 fps che aumenta a 163 per quanto riguarda i risultati in overclock. E anche l'1% low migliora da 67,9 a un'ottantina. Con invece il 1440p stessi settaggi passiamo da 101-102 fps a 109 quindi magari questo è anche dovuto alla run può essere insomma. Però lo vediamo anche dall'1% low da 64 passiamo a 72 quindi anche qui c'è un beneficio. Su God of War full hd e settaggi originali quindi quelli della PS4 abbiamo a stock un frame rate medio di 81 che aumenta fino a 87,8 con l'overclock attivo mentre l'1% low è più o meno identico. Se passiamo al 1440p stessi settaggi abbiamo invece un bel incremento anche qui del 10% da stock che facciamo a 60 fps passiamo a 66,6 con anche un incremento per quanto riguarda i valori percentili. Quindi ecco tutto questo si rifà poi a un'esperienza di gioco più fluida. The Finals full hd e settaggi medi abbiamo a stock un frame rate medio di 76 fps e in overclock un pelo meno quindi questo non me lo spiego più di tanto è probabilmente dovuto anche qui alla run che potrebbe essere ecco un pelo diversa però bene o essendo un gioco online però bene o male ecco questo forse è l'unico caso in cui non vediamo chissà che grandi benefici. Però ecco comunque il gioco è anche giocabile pure in 1440p siamo poco sotto i 60 fps siamo a 55 fps circa in entrambi i casi quindi anche qui ecco un altro gioco perfettamente giocabile e godibile con questa scheda anche in 1440. Cyberpunk 2077 in full hd settaggi di hardware unboxed a stock facciamo 50,9 fps con l'overclock 55 e vi ricordo questi settaggi sono comunque molto pesanti dal punto di vista grafico cioè non sono ecco settaggi medi o bassi e in 1440p passiamo a 32 fps con invece l'overclock 35 fps anche l'un per cento migliorato rispetto ecco ai risultati a stock quindi davvero tanta roba per questa scheda per questo overclock. E finendo con l'ultimo titolo abbiamo resident evil 4 remake testato in full hd e con preset grafico priorità alla grafica a stock facciamo 73,9 fps quindi un ottimo risultato con anche ottimi 1% low e in overclock aumentiamo a 81 e 70 fps invece per 1% low. In 1440p stessi settaggi a stock siamo sotto i 60 fps siamo a 49,2 e in overclock anche qui riusciamo ad aumentarlo un po' sia per l'averaggio sia per l'1% low quindi davvero niente niente male. E ora facciamo un breve ripasso, riepilogo dei benchmark di produttività su Cinebench 2024 ovviamente lato GPU facciamo 3807 punti. Qui ecco si sente la mancanza di core dedicati al retracing però ecco non è un risultato che fa proprio così schifo. Anche su Blender Open Data 4.0 abbiamo ecco un risultato combinato di 607 punti anche qui facilmente superabile da qualsiasi scheda Nvidia che abbia ecco dei core dedicati al retracing. Quindi anche qua ecco vediamo che questa scheda non è proprio il massimo per questo tipo di lavori però comunque può essere utilizzata. Su Blender Classroom Demo abbiamo un tempo di rendering dell'immagine e della scena di 96 secondi e passando poi a Octane Benchmark abbiamo invece un punteggio anche qui combinato di 135,5 punti. E passando al benchmark di DaVinci Resolve qui effettuato col Puget System Benchmark abbiamo un GPU score di 52 punti e sulla destra abbiamo messo anche i risultati per i vari singoli test così se volete potete confrontarli con altre configurazioni. E arriviamo ora a V-Ray altro test di rendering in questo caso effettuato con CUDA abbiamo 667 V-PATS che non sono chissà quanti anche qui effettivamente GPU con ray tracing con core dedicati di nuova generazione vanno sicuramente molto molto meglio. Passiamo ora a Specview Perf con appunto la suite di Benchmark su diverse applicazioni di produttività effettivamente qui magari qualcuna di queste potrebbe anche non beneficiare chissà quanto di core dedicati ai tracing quindi comunque ecco si difende relativamente bene anche questa scheda. Su Stable Diffusion invece qui si fa sentire la mancanza di Tensor Core e facciamo solo due iterazioni al secondo per quanto riguarda la generazione di immagine tramite intelligenza artificiale generativa. E rieccoci qui dopo aver visto le prestazioni in gaming e in produttività di questa GTX 1070 Ti. Che dire io sono rimasto effettivamente stupito perché non ero mai andato a testare questa scheda in modo approfondito e non l'avevo mai considerata più di tanto. Però effettivamente con un overclock del genere che è alla portata praticamente di tutti c'è anche il tutorial adesso che vi ho mostrato in questo video che potete utilizzare senza problemi. Abbiamo un incremento del 10% circa nei giochi che non è davvero poco e vedere un incremento simile nelle schede video attuali con un overclock è praticamente ormai un'utopia. Quindi ecco se andiamo a prendere una scheda video del genere nel mercato dell'usato e riusciamo a pagarla intorno ai 100€ o giù di lì possiamo andare in pensieri delle schede video più nuove anche su fasce di prezzo un pochino più alte. Perché ecco con un overclock e insomma un incremento prestazionale del genere secondo me raggiungiamo in alcuni casi probabilmente superiamo anche le prestazioni della GTX 1080 che ricordo essere all'incirca come prestazioni sulla falsa riga di un RX 6600 poco o meno forse. Se quella è una scheda che al giorno d'oggi troviamo sui 160€ quando ci va bene ecco questa 1070 Ti se trovata sotto i 150€ in generale meglio ecco se trovata proprio sui 100, 110, 120 potrebbe essere davvero un'ottima ma un'ottima alternativa. Perché sì ovviamente gli svantaggi ci sono nel senso che parliamo dell'architettura che ormai ha i suoi anni anche come consumi non siamo messi benissimo. Però alla fine 170, 180W non sono chissà quanti anche dopo aver fatto l'overclock. Certo una RX 6600 ha il vantaggio poi di avere dei core dedicati al ray tracing anche se effettivamente su questo livello di prestazioni ci fate secondo me molto poco. In entrambi i casi non abbiamo accesso al DLSS quindi anche questa 1070 Ti può utilizzare l'FSR come la RX 6600. E forse la pecca più grossa per gli appassionati è il fatto che questa scheda non ha il mesh shader attivo. Che alla fine abbiamo visto su Alla Make 2 dopo la pace effettivamente anche questa scheda è perfettamente in grado di farvi giocare anche a un livello di prestazioni più che adeguato a questo titolo. Quindi se il vostro target di gaming è il Full HD 1080p questa scheda video secondo me vi può togliere ancora molte molte soddisfazioni. In particolar modo poi se andate a giocare a titoli e sport veramente ancora spinge fortissimo. Per la produttività ovviamente qui si fa sentire la mancanza di core dedicati a ray tracing o tensor core dedicati all'intelligenza artificiale. Quindi ecco al giorno d'oggi io sinceramente fossi in voi anche se sul budget andrei a cercare qualcosa almeno ecco sulla serie 2000 di Nvidia quindi con tensor core ed RT core dedicati. Quindi passando alla domanda fatidica vi consiglio questa scheda video nel 2024 secondo me sì se avete un budget ovviamente molto molto ristretto e se riuscite a trovarla nel mercato dell'usato tra i 100 120 euro poco di più ecco già intorno ai 150 vi ripeto si trovano soluzioni anche più prestanti come la RX 6600 che vi va a consumare anche meno. Oppure la vecchia RX 5700 XT che come livello di prestazioni è ben superiore rispetto a queste ultime alternative oppure anche se siamo fortunati qualche 2070 si inizia anche a vedere e vabbè la serie 3000 ecco c'è la 3050 magari intorno a questa cifra però ecco in termini di rasterizzazione questa 1070 Ti va di più della 3050 gli ambiti in cui quella scheda avrebbe il vantaggio sarebbero quelli di produttività. Quindi ecco qui poi dipende da voi però ripeto sui 100 euro questa è ancora una scheda video che dopo 7 anni dall'uscita rimane ancora valida. Prima di lasciarvi però vi invito a guardare due video che se non avete visto vi consiglio molto di vedere. Il primo è quello sulle GTX 1070 quindi non le versioni Ti ma le versioni lisce utilizzate Inslee che siamo andati a testare l'estate scorsa quindi 2023 e abbiamo visto ecco dei risultati interessanti. Mentre il secondo video che vi consiglio è quello sulla RX 6600 alternativa sulla fascia di prezzo un pelino più alta rispetto a questa 1070 Ti e come vi ho già detto nel video dovreste tenere in considerazione. Detto questo è tutto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.